Il proprio sogno è ciò che ti piace, non serve proprio a nulla, perché è vero che non solo bisogna tenere i piedi per terra, ma soprattutto utile a non usare l'aria e crearsi un'alternativa più via valida, direi concreta. Io invece mi sono sempre ostinata a seguire il mio sogno, ad aspettare che arrivasse la buona occasione, ma non quella che mi dicevano gli altri, la mia occasione, quella che mi vestisse proprio addosso. E nel frattempo il tempo passava, facevo delle brevi esperienze lavorative, ma diverse, ma non abbandonando mai il mio sogno. Contemporaneamente facevo tanto volontariato, facevo la giornalista al tanto. Ho scritto articoli sull'immaginazione, migrazione, ludopatia, tra interviste ed inchieste. Fare la giornalista, volevo diventare una brava giornalista. Non posso dimenticare di aver parlato di ambiente e di aver imparato tanto, di aver intervistato cantanti, musicisti e attori. Due anni fa, finalmente il frutto di tanto lavoro arriva e si chiama volgarmente Tesserino da pubblicista. Avevo un documento che mi dava un titolo, che mi faceva entrare gratis al teatro, all'unseo, che faceva di me una giornalista. Tuttavia, i sogni cambiano quando urtano contro una realtà avversa. Posso fare la giornalista come hobby, ma quanto pare non c'è posto per me e per tanti altri come me, tre grandi parolieri degli importanti testati giornalistiche locali e nazionali. Di contrasto, il giornalismo si fa sempre più copia e incolla di comunicati stampa, e quindi occorre sempre meno forza lavoro nelle redazioni, con la crisi, il proliferarsi dei giornali web, che a volte preferiscono dei non giornalisti piuttosto che dei giornalisti qualificati. Pazienza. Essere pubblicista significa scrivere e pubblicare. La remunerazione viene dopo. Tanto devi sempre crescere professionalmente, devi farti conoscere. E cos'è che ti dicono quando ti chiedono di collaborare? Di dar loro una mano, oltre che la massima disponibilità. Ma mica si campataria. Davvero una situazione ridícula, roba da pazzi. Eppure è così. E allora che fare? Ti giri dall'altra parte e cerchi qualcosa, che fino a qualche anno prima avevi evitato. Qualsiasi cosa. E all'improvviso ti sta anche bene. Ovvio che sopraggiungo le forze di colpa. Se una volta per fare le rovine e giocare l'impulso di cuore mi sono bruciata la mia occasione. Se non sono abbastanza performante, perché non so bene l'inglese, perché non ho specializzazione di spicco, e in questa giungla dove cresce l'offerto aumenta la domanda, devi essere sempre la migliore. Le devi avere tutte. Gli annunci di lavoro te le chiedono tutte. Eppure quando ti guardi intorno, volgendo a qualcuno dei tuoi colleghi che lavora, non è che sia proprio una cima. Ma preferisci non pensarci, come abbia fatto a prendere il posto di addetto stampa di quell'ente pubblico, piuttosto che di quell'assessore. Fortuna che c'è la passione. Solo quella ti fa andare avanti. Perché se getti la spugna, anche solo per un po', l'ordine ti cancella dall'albo per mancanza di attività. E ti mando una raccomandata che avrebbe progetto cancellazione per inattività. Cioè non sei più un giornalista. Come se fosse colpa mia se fare giornalisti oggi significa essere mal pagati o non pagati affatto. Come se fosse colpa mia se i miei sogni da giornalista sono lì accantonati da qualche parte e per vivere degnamente svolgo certi lavori che mi faccio piacere. Come se fosse un privilegio raggiungere il proprio sogno. Quindi lavorare, vivere di ciò che ti piace. Una persona che scrive quasi gratis per una testata giornalistica consegna annualmente 100 euro per conservare il titolo da pubblicista. Ma non per conservare il suo lavoro. Una persona che non ha trovato nemmeno un lavoro mal pagato nel settore giornalistico non può più conservare il titolo. perché la risposta sarebbe non scusi, ci dispiace l'è inattivo non scrive, non pubblica non è pagato le invitiamo a restituire a stretto giro la posta alla testa della professionale. Ora la nuova legge dice così cioè se non scrivi non sei più una giornalista. Un titolo, una testa che quasi sempre è solo un piccolo premio come un diploma che conservi perché ha con sé tanti ricordi che ti fa immaginare di avere il potere di aprire tutte le porte di questo lavoro perché te lo immagini nel percorso da praticante che una volta ottenuto il tesserino sicuramente lavorerai. Poi però mica ti tolgono il diploma della giorniere se per un giorno decidi di fare il medico o il tagliaboschi. Perché cancellare sogni in titolo di persone che hanno conquistato quel tesserino dal pubblicista quasi sempre nel cuore della giovinezza tra sacrifici e sogni amori e dolori errori e scopo? I pubblicisti non dovrebbero avere le stesse responsabilità dei professionisti così come non dovrebbero avere gli stessi obblighi e magari nemmeno le stesse lutere. Cosa cambierà quando ci saranno centinaia di pubblicisti in meno iscritti all'ordine? non cambierà nulla tranne che le casse dell'ordine saranno più vuote e probabilmente si potrebbe pensare di aumentare la quota annuale dei sopravvissuti. E ci saranno tanti sogni morti accasassati da qualche parte come vecchi giornalisti che abbiamo sudato da giovani.